Il malcostume praticato per acquisire con furbizia e trucchetti la qualifica di medico, infermiere, fisioterapista o avvocato tocca anche il mondo dell'insegnamento. Titoli finti, presi in sedi scolastiche indefinite, spesso collocate all'estero, producono ogni anno migliaia di giovani diplomati, abilitati e specializzati sul sostegno. Peccato che si tratta di percorsi a pagamento, tutt'altro che di qualità e molto distanti dalle regole imposte a quelli accademici tradizionali che percorrono tutti gli altri aspiranti insegnanti. Il punto della situazione è stato fatto il 25 giugno a Roma durante una conferenza stampa organizzata dalla Gilda degli Insegnanti, dal titolo Fabbriche dei titoli, alla presenza dell'onorevole Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura della Camera, in collegamento con l'onorevole Elisabetta Piccolotti, della stessa commissione, e Luca Lantero, direttore del Cimea, il centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche. L'obiettivo dell'evento, in vista del G7 dei Ministri dell'Istruzione in programma a Trieste tra pochi giorni, è stato quello di fare luce sul fraudolento sistema che si nasconde dietro al raggiungimento dei titoli professionali, al fine di richiamare l'attenzione dei vertici mondiali sulla necessità di adottare misure comuni per il contrasto alla contraffazione dei titoli di studio e delle qualifiche. È bene sapere, ha detto Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, che si tratta di un fenomeno non solo italiano e di cui si attraccia persino fin dai tempi del Medioevo. Già allora vi erano delle sanzioni per chi realizzava questi illeciti, veniva esiliato. Ottenere il titolo di doctor non sottoponendosi agli esami regolamentari ma per mezzo di una bulla o di un breve pontificio era la scorciatoia utilizzata e che in breve tempo si trasfermò in una vera e propria fabbrica di titoli. Tornando ai giorni nostri, il fenomeno ha fatto riscontrare un incremento con l'aumento della mobilità internazionale e l'utilizzo delle nuove tecnologie in ambito educativo. La ricerca della Gilda è partita da alcuni fatti di cronaca, uno dei più recenti e declatanti è il caso dell'Università Fantasma di Gorazde in Bosnia, per questo soprannominato il caso Bosnia Gate, dove lo pseudo-istituto Jean Monnet rilasciava falsi diplomi di laurea in medicina, infermieristica e fisioterapia, per poi essere utilizzata in vari paesi tra cui l'Italia, la Svizzera, la Croazia, la Serbia e la Libia. Impegno e sacrificio da parte di un migliaio di studenti e un dispendioso corso di studi corrette fino a 20.000 euro l'anno per la laurea in medicina. Luca Lantero, direttore del Cimea, ha spiegato che il giro di affari loschi che ruota attorno al fenomeno è di diversi miliardi l'anno e a gestirlo sono organizzazioni senza scrupoli. Per il mondo della scuola è stato citato il caso di Caserta, dove tra i docenti con titoli falsi, in 9 casi su 30 figura il finte istituto magistrale. Solo una trentina segnalati ai carabinieri nel marzo del 2024, gli insegnanti con titolo di accesso fasulli alle graduatorie provinciali per le supplenze. A Caserta, infatti, c'è l'Istituto Paritario Tecnico Garibaldi e non il liceo magistrale, ovvero la scuola che fino al 2002 dava la possibilità con il diploma di avere un titolo abilitante per infanzia e primaria. In vista del G7, intendiamo lanciare una proposta che abbia un impatto contro la lotta alla corruzione e all'abuso accademico. Non essendoci sanzioni penali sufficienti ad arginare il fenomeno, bisogna ricorrere ad un sistema di sanzioni amministrative che nei casi più gravi escludano per sempre dalla pubblica amministrazione chi vi entra con titoli falsi, abusando della fiducia dell'intero sistema educativo, ha detto di meglio. Altrimenti, ha concluso il sindacalista, la qualità della cultura, dell'istruzione ed ora anche della salute dei cittadini è messa seriamente in pericolo, occorre quindi agire con rapidità e determinazione. Grazie a tutti.